La faccina di plantare può essere approcciata in diversi modi, dipende anche da quanto tempo è in sorta e da altri fattori di gravità. Certamente un primo approccio è quello di natura medicamentosa, si utilizzano dei farmaci antinfiammatori, una terapia fisica che può essere fatta sia con l'applicazione di elementi come laser terapia, ultrasonoterapia e anche un approccio di tipo manuale con massaggi di allungamento della fascia plantare, esercizi che il paziente può fare guidati di stretching ovvero di allungamento e tutti questi elementi che possono essere messi insieme e la correzione anche di alcuni tipi di scarpe o meglio l'adozione di ortesi, di plantari Grazie a tutti